Eccoci qua ragazzi, bentornati su Forza Dyson 4. Guardate cosa vi faccio vedere oggi, il camion della Volvo. Precisamente il Volvo Iron Knight del 2016. Guardate com'è tamarro, soprattutto con questo spoiler prepotente, ma non è che gliel'ho messo io perché ho dei gusti strani. No, secondo il kit, quello lì potente, va messo perché migliora alcune caratteristiche. Lo so, è un po' brutto da vedere tutto quello che volete, però se non glielo metti non va come dovrebbe questo camion, quindi è meglio tenerlo. Ok, sentiamo un po' il sound. Uh, ragazzi, da quello che ho visto dovrebbe avere, se non sbaglio, 10 o 11 marce, quindi una bestia. Ok, questo è il sound, niente di che ragazzi, perché stiamo parlando di un camion, però già così è veramente tanta roba. Questi sono gli interni, eccolo qui. Vediamo se posso farvi rivedere. Abbiamo il navigatore, diversi pulsanti, diverse cose ragazzi. Sentiamo anche il sound dall'interno. Ora, come sempre, ci facciamo una gara solo camion, poi lo si testa in autostrada per vedere quanto fa, perché sono curioso anch'io, ragazzi. L'ho comprato all'asta e ancora non ho avuto modo di provarlo, quindi dai, facciamo subito questa gara, vediamo soprattutto come sono le gare con i camion, perché secondo me veramente ci sarà da sudare, perché sto coso non gira, ragazzi, ve lo assicuro. Non gira e non frena, quindi l'accoppiata vincente. Non gira e non frena, quindi voglio vedere io come vinco. È impossibile, ragazzi, però ci proviamo, dai. Vedete, già siamo all'ottava marcia, 180 km orari, che per un... Vedete, non frena, ragazzi, non frena, quindi... Ok, dai, vediamo un attimo di fare questa gara. Partecipa all'evento giocatore singolo. Ok, Horizon presenta, gareggi in questo evento. Primavera, quindi solo camion. E dovrebbe stare anche il Mercedes come camion. Guardate le mie prestazioni velocità 7.3, controllo 6.3, frenata 7.6. Non è al massimo, ragazzi, però cercherò di mettercela tutta, quindi dovrò frenare almeno due chilometri prima per girare, perché adesso vi faccio vedere. Guardate quanti camion. Facciamo subito a via gara. E dovrebbe stare anche Marioville. Infatti Marioville è quello di senza spoiler, quindi questo camion senza spoiler è come quello lì di Marioville. Dai, cerchiamo un attimo di concentrarci su questa gara, perché non gira, ragazzi. Vedete, io qua c'è la curva. Devo frenare almeno 500 metri prima, se no non gira, non gira, vedete, non gira per niente. Però cerchiamo di darci una mossa perché non posso perdere, non posso perdere per niente. Piano, piano. Vai, Volvo, sei tutti noi. Poi qua bisogna frenare tantissimo. Ok, vedete? Sto girando ma fa fatica. Eh, vabbè, qua proprio, se non freni, non vai da nessuna parte. Vai, recuperali, recuperali. Non sono nessuno questi qua. Vai, drifta pure. Vai. Riprendiamo l'Aber o l'Uber. Penso più l'Aber. Vi riprendo, vi riprendo, maledetti, vi riprendo. Ho il camion più veloce, con lo spoiler tamardo. Non potete fare niente. Guardate come vi sorpasso adesso. Siete pronti? Vai, metti la decima. Eccola lì. Frena, frena, che qua andiamo veramente nelle case, ragazzi. Ok, siamo primi. Cerchiamo di mantenere la posizione. E non è facile con questo camion. Se ne va dove vuole, ragazzi. Soprattutto prima delle curve. È veramente difficoltoso tenerlo su strada. Perché veramente se ne va. Guardate, io devo frenare. Non è che freno perché ho paura. Ma se non freno, veramente, me ne vado nelle vigne. Quindi. Vai, 79%, ragazzi. Vai che la vinciamo. Ti drifto pure qua. Grande, grande, grande. Piano piano qua, piano piano. Sì, checkpoint. Oddio. Vai, 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 vai. 92%. 92, 92. Sì, abbiamo vinto, ragazzi. Brutti maledetti. Sì. E si va a vincere. Tecno e Scobar conclusa. Primo posto. Mario è arrivato ottavo. Va bene. Ok, quindi Tecno e Scobar. Iron Knight. Perfetto. E vediamo soprattutto cosa abbiamo vinto. Continua. Sei arrivato primo. 5.870 crediti. Difficoltà e aiuti alla guida 3000. Perché io ho tolto un po' di cose, ragazzi, tipo sterzo, simulazione, controllo, trazione, niente. Quindi sto giocando comunque sul medio difficile, ok? Perché ho lasciato l'ABS, quindi non posso dire che sto giocando sul difficile. Ok, perfetto, ragazzi. Siamo qui. Vediamo un attimo di testare questo camion, come sappiamo noi, quindi non perdiamo tempo e mettiamoci subito alla guida di questo fantastico Volvo. Vedete, sono in prima persona, ragazzi. Devo stare attento perché non gira, vedete? Quindi spero di trovare un rettilineo serio, ma perché no, andiamocene tipo in autostrada, ragazzi. Andiamo tipo in autostrada qui. Allora, almeno possiamo testarlo come si deve. Ok, fa l'inversione, fa l'inversione. Ok, siamo in autostrada, quindi vediamo un po' come si comporta. 1, 2, 3, vai, 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 vai Volvo, vai Volvo. Qualcuno mi ha salutato, vabbè, io nel dubbio dico ciao. Guardate, ragazzi, ottava marcia, nonna marcia. Vai con la decima, breve, eccola qui. 260 già, ragazzi, quindi stiamo parlando di un camion, eh. Non è una Ferrari, guardate quanto va forte. Vai, quali facciamo i 300, sicuro. Li superiamo pure. Li superiamo pure. Li superiamo pure il recento. Rimettiamoci sulla corsia. 200, vabbè. Quindi avete visto com'è veloce questo camion? Un camion che ti fa i 320. Non frena. E non gira. Continua a dirlo perché è così, ragazzi. Perché voi che state guardando, non vi rendete conto. Però io faccio veramente tanta fatica col controller a tenerlo fermo. Perché non è facile. Non è facile. Uuuuh. Boom. Incidentone, ragazzi. Madonna mia. Vediamo se drifta qua nella rotonda. Eccolo. No, si gira del tutto. Va, levatevi. Vi spacco. Vi spacco. Levatevi. Uè, collega. Aiuto, collega. Salvami. Drift. Come va, va. Va. Bello, bello, bello. Bello, dai. Non male, non male. Vediamo qui si riesce. Bello prepotente. No. Atterraggio con schianto. Gua, non ce la fa, ragazzi. Non ce la fa proprio. Non ha aderenza. E niente, ragazzi. Questo è stato un episodio diverso. Ovvio, io comunque possiedo tante macchine nel garage. Alfa Romeo 4C, BMW M4. Però piano piano vi farò vedere tutto, ecco. Cioè, mi va anche di farvi vedere veicoli strani come questi, ok? Perché vedere un camion che fa le gare e va a 300 non è una cosa che si vede sempre. Per questo, ho detto, vabbè, portiamo un gameplay così. Una 500 col portapacchi. Hm. Strano. Non poteva comprarsi un'auto più grande? Hm, va bene. Ok, dai, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo. Oh, non lo rompi questo. Ci sentiamo ad un prossimo episodio. Bye, bye, ragazzi. Ciao, ciao.